Musica Musica Va bene, a Merizoot quest'anno abbiamo portato dei personaggi nuovi che sono la banda dei buco dei cento milioni di tepre che poi magari vediamo dopo 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 l'edizione scorsa facevamo lo strip cabaret quella cosa che poi magari vediamo dopo vediamo dopo vediamo tutto dopo ma no cazzo facciamo vedere altri personaggi che anche abbiamo portato a Medizut a me piacciono tantissimo sono due poliziotti mi dà l'impressione quel telefilm che fa Italia 1 no? si e sai no ne sai si e sai ne sai si e 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 sai ma non lo sapete che si va così in guai si e si ma tu è sai si si cambiamo fuori cipello 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 ma lui non ci metto a fare andiamo anche a restare polizia polizia c'è stato un amicidio gli assassini sono ancora in casa presto due in camera da letto due in camera da pranzo due sopra due sotto due a destra da sinistra dall'entrata dall'uscita del cattino del soggiorno il resto con me oh stiamo soletti noi abbiamo arrestato il padrino io sono stato alla stazione e ho fatto la balfè sono stato autostrada e ho fatto l'apostrada sono stato all'aeroporto e ho fatto la polaria io sono stato da cucina e ho fatto pure che padrone io sono il reparto dei gist reparto dei ris e del reparto dei nas e io un reparto di gist giusto il cadavere sotto una valanga di ghiaccio l'hanno freddato questa è la cd sento falla a casa luce quella farina della figura è merda non mi hai fatto fare dall'indagine lì su tra persona tranquilla ma tutti abbiamo lo schetro e l'armadio lui è becchino e che signifio si è buttata fatica a casa questo è mio a me non so adesso glielo ho strappato ragazzi mi raccomando non ci facciamo sfuggire nulla bube chi sono troppo furbo sono troppo scalpo vai scalpo a me non mi sfugge nulla e ora mi fai a me o is che stai facendo? un controllo a tappeto adesso si è un battuto mardo ehi io il picciallo stai di verbale a me mullè uomo 38-39 anni a 10 metri e 55 peso 49-50 kg pelato vieni particolari? tre detti della mano destra amputata nace in 30 gradi a snistro rinca spender dentaturi subicini è pieno di brufoli essere tratto di suicidio non è così che cazzo che non va a fare? effettivamente fai schifo ehi strano a questo corpo ci manca un pezzo importante hai ragione allora è ambasciatore perché? l'ambasciatore non porta pene questa l'ho scritta io per dare l'applauso di tutti detto tra di noi sarà una battuta lo cazzo farò farlo l'hanno tagliato la pancia con questo è impossibile chi sto? taglierino chi l'ha capito? puoi spiegare chi l'ha capito? è stata colpita la scheda è morta l'una di notte ancora altre comande in mano non ha fatto il tempo ci sono i testimoni? sì stanno aspettando la sposa sei andato a strunzare che aveva scritto io mi ho fermato un tipo sospetto dice di essere un batterista credo che sia vero e tu che ne sai? addosso io ho trovato una pistola a tamburo due strunzare una ranata mi hai fatto rischio erano 44 magnum e tu le hai mangiato il tuo quattro ma se malamente è da me buono si è starissimo hai fermato quel travestito che stavi inseguendo? sì bene cosa hai scoperto? ero papà impressione eh vogliamo mamma chi sono gli indiziati? di là c'è una signora con il cane ah un alibi non un Yorkshire ma la signora non l'intervole è troppa buona guarda dici non dobbiamo essere scientifici come Riss ok faccio Riss e pagano ricapitoliamo ricapitoliamo abbiamo fermato un nuovo cornoccio di vetro una bomba con siero di plastica e un guapo di cartone abbiamo fatto raccolta differenziale ho sentito rumore mi guardo circospetto mi guardo circospetto mi guardo circofèi ci debbbero ma anche questo hai capito ma con un colpo ti faccio senso io ci ho sperato tu guarda lì si la rire non rire purtroppo non fuori eh per aver sottile non ti muro è bastardo ma non mai sei in trappola bastardo non ci sfuggi più ma che stai facendo ma sto a canetto dai forza entriamo cacciamo fuori i coglioni ok io ci farò prima di tutto stai riparendo a casa luce ma con chi è? che pisse ti conosce troppo pure armiamoci sei la migliore sei in gambe sei la più furba senza te sono palenti senza te lo balboni tu sei fortissima tu sei la mia camporessa ti voglio bene ma cattica ti voglio bene ti amo si è troppo forte troppo forte è troppo forte che stai facendo? sto caricando la pistola ma tu hai sono la dovevo avvisa la centrale abbiamo bisogno di rinforzi obbligo ok a a a b a a c a a a d a a a e a a questo che cos'è? l'alfabeto morsi ho un raggio a festo ma stai ma ne faccio che mi mette in questo istante ma con chi sei a parlare? con l'interpol ok ok vado prima io ehi hai fegato ehi tu hai una trip però ma questo ti ha fatto rire mi hai fatto con noi faccio fare 4 muri da questo momento parliamo in codice sì Pinocchio e Geppetto ci sono fata turchina ci sei e tu come sei il dì? una favola no spegliamo le nostre identità e che vuoi fare sta figura in me io sono il gatto con gli stivali e io? un porco che me lo cassa sono scappati via hanno vinto l'oro hai preso la targa? no mi hanno dato la medaglia se le fate si cotta ma che macchina è? non l'ho capito ma sul vetro aveva l'adesivo del VVF allora è una panda calma bre cosa stai facendo? vengo a curarsi le quarta mani alla guida c'è un travestito ma non lo inseguiamo perché? non mi piace stare dietro ti ricordi come era vestito? portavo una sciarpa di seta e poi? dei guanti di seta e poi? una camicia di seta e poi? e un piccolo acqua ma perché? un bel brodo di seta ma mi interessa il capo è lui il mio uomo rischio dietro da anni tu guardami le spalle tu guarda ma rinda l'occhio ma fuci proce voglio subito un rapporto non c'è mi piace il febbre un rapporto il febbre sta qui un rapporto inseguiamolo dai lo prendo lo prendo lo so lo so grazie a tutti grazie a tutti